Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in questo giovedì 11 aprile. Cominciare dall'autostrada in a 11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il Bivio Colla 1 in FIPD possibili disagi per i spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per ritardo nella preparazione del treno il regionale 19 070 Chiusi Siena quest'oggi è cancellato, i viaggiatori utilizzano bus sostitutivo. Inoltre la cancellazione dei treni 18 621 via Reggio Lucca e 18 622 Lucca via Reggio per presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria. I viaggiatori utilizzano bus sostitutivo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze tre lavori in corso questa settimana segnaliamo l'asfaltatura in via delle Sentinelle via di Villa Cedri. Il termine previsto è il 13 aprile. Muoversi in Toscana Info è un collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!